Bravo Gianluca, mi piace questo è fare la radio Gianluca, però te devi dire una cosa Ascoltami, mi devi fare dei video originali, hai capito originali, cose mai viste prima Cosa che la gente, sei solito, tipo alieni, cazzo ne so io Gianluca, vedi te no? Gianluca svegliate Gianluca, non dormi sempre Gianluca Gianluca, boh, vattene a far culo che poi faccia andare a fare, dai cazzo Tratto da una storia vera, inventata di sana pianta Cazzo, allora, guardando la programmazione del programma, insomma Dal regista di Non fategli fare film A mio avviso, faccio qualche cosa Una trama decisamente originale Ma come? Ma, cioè, quello è il mio programma della rata Il corto che cambierà il mondo del cinema In peggio Mirata da donna, una foto, un cazzo Sì, ma voi chi siete? Gomorragio Sì, ma voi chi siete? Quello, ma io, hai cagato un sticco Struut, strut, strut Ti stai a picciare Biv, 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 biv Biv Fammi vedere, ma posso, mi vedi? Alfonso Paoletto salta a battere Ma non ci sono tutto Ecco, Alfonso Paoletto, non ci ha davvero più, hai capito? Ehi, hai capito, non ci dì, ma posso voler, tu ci dì, non ci dì, ci dì, ci dà Gomorragio Sul routine, come sai? Sul routine, come stai facendo bene? Adesso spara molto Ma io veramente ti volevo chiamare, cioè, se... C'è stato lui? Ma mi merda! Biv 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 Al giornesimo posto, mi devi vedere I quanti sei Ducas Messiere Tu, sono noi Messiere Messiere Eccolo Sono noi Unistru Messiere Topo Biv C'è stato il sito posto, mi vedete 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 Gomorragio For Juliet Al originale che questo video Te lo avete E' veramente Hurra R Trump Diventa Du vi 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 . che cosa? e non tu? lo vogliamo fare? te lo apparo io questa fiducia io non ho fatto un po' l'edro gusto è un po' amaro comunque, ma è la tua ma questa è la tua si quella è la mia perché c'è un po' i lini si un po' oggi è in un'altra commissione si si un gambe a tre Grazie a tutti.